Noi a Duolingo sappiamo che una lingua si impara meglio se fai pratica tutti i giorni. È per quello che Duolingo invia notifiche agli utenti con lo scopo di rompere, massacrare e triturare i maroni. Ma abbiamo capito che per alcuni utenti non era abbastanza. Siamo quindi eccitati nel lanciare un nuovo servizio premium. Duolingo, porco Dio! Poiché Duolingo può essere utilizzato ovunque ti trovi, Duolingo, porco Dio, può seguirti ovunque ti trovi. In palestra, in ufficio, quando sei in giro. Duolingo ti romperà la minchia ovunque, sempre, forte. Con una semplice parola ti ricorderà di fare gli esercizi. Porco Dio! Grazie! 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 Grazie!